Grazie a tutti. Sono gli argomenti del giorno. Lo inviterò in città e quanto afferma lo zio sulmonese del premier incaricato per il governo Movimento 5 Stelle Lega, Giuseppe Conte. Sentiamo nel servizio di Andrea D'Aurelio. Cercheremo di invitarlo a Sulmona. Provederò a mandare anche alcune fotografie dell'epoca. Siamo sempre stati una famiglia unita. A parlare a Onda DG è Valerio Rosano, lo zio di Giuseppe Conte, il premier incaricato, lo a capo dello Stato Sergio Mattarella, di formare il nuovo governo. Rosano è il cugino della madre del presidente del Consiglio, parentela di primo grado, ma il premier lo chiama zio, un particolare che starò svelato in anteprima da Onda DG. Rosano, dal canto suo, ancora riesce a credere alla notizia, all'idea di avere un nipote, capo del governo. Giuseppe è un tipo che ha sempre avuto voglia di imparare. Adesso si è buttato in un settore abbastanza difficile, quello dei rapporti politici tra gli uomini, soprattutto in Italia. È segno che, visto che lui è una persona preparata e intelligente, vuole imparare, approfondire questo ruolo nuovo per l'Italia. Così è intervenuto Rosano, tracciando l'identikit del premier, prima ancora che Mattarella lo chiamasse al colle per conferire l'incarico, accettato poi con riserva. Lo zio sulmonese ha mostrato le foro dell'epoca, ricordato aneddoti e particolari sul paese natale, si è detto fiero e orgoglioso dell'incarico che il nipote ha ricevuto dal presidente della Repubblica. Il mio consiglio è quello di restare onesto, ha fatto notare, senza venir meno, la raccomandazione doverosa. Con la famiglia ha già scambiato contatti e ha inviato gli auguri di rito, ma il suo desiderio sarà quello di far conoscere al nipote Sulmona. Lo inviteremo sicuramente, ha concluso strappando una promessa. Potrà venire a Sulmona? O meglio lei lo inviterà adesso allo zio qua, sarà l'occasione buona. Gli manderò pure una coppia di quella fotografia, così lui farà risorgere un po' i sentimenti di parentela che sono sempre esistiti tra di noi. Sì, eravamo una famiglia ben unita, come si vede dalla foto, però il lavoro, gli incarichi, i professionali... Gli interessi, in tutto, però magari forse sarà questa l'occasione. Intanto la Chiesa apre al governo giallo-verde, pronti a collaborare, quanto afferma il Vescovo di Sulmona, Michele Fusco. Sentiamo. Se la providenza di Dio ci darà questo governo, collaboriamo con questo governo. Lo ha detto il Vescovo di Sulmona Alva, Monsignor Michele Fusco, intervistato nel corso di Agorai, programma del mattino di Re 3. Credo che con lo spirito critico di sempre, che non abbandoneremo sicuramente, sia giunto il momento di cogliere la sfida del nuovo che avanza nella politica italiana, si era detto nel corso della conferenza episcopale italiana, che oggi si chiude a Roma. E a proposito delle dichiarazioni del Presidente Bassetti, Monsignor Fusco ha precisato che è la lettura che possiamo dare a questa esplicitazione del Presidente della CEI e soprattutto la collaborazione per il bene comune, collaborare per il bene del Paese. Alla domanda sulle possibilità e speranze dei Vescovi italiani di collaborare con il nascente esecutivo, il Vescovo Fusco ha risposto pensiamo di sì, anche se i nostri governanti potranno sembrare in qualche modo nuovi al governo, perché di fatti lo sono, ma se la providenza di Dio ci ha dato questo governo, collaboriamo con questo governo. La Chiesa quindi apre all'esecutivo giallo-verde una sorta di benedizione, che sia a questo punto di buon auspicio. Adesso c'è un aggiornamento di cronaca. Dieci ordini di custodia cautelare messi dal GIP del Tribunale di Avezzano sono in corso d'esecuzione dalle prime ore dell'alba d'opera dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dell'Aquila nei confronti di altrettanti soggetti responsabili a vario titolo di frode processuale, corruzione, falsità materiale ed ideologica commessa da pubblici ufficiali in atto pubblico, frode assicurativa, truffa ai danni dello Stato e favoreggiamento. Le indagini e le fiamme gialle avrebbero portato alla scoperta di un emporio per certificati falsi finalizzati ad ottenere pensioni, permessi lavorativi, che vede coinvolti tra gli altri noti politici, medici e imprenditori. Adesso torniamo a Sulmona per occuparci della situazione del canile municipale. Niente firma fino a lunedì. Il canile è salvo grazie alla solidarietà. Ci dice tutto nel servizio Andrea Daurelli. La firma del dirigente arriverà solo nella giornata di lunedì, ma il canile comunale di Noce Mattei può contare sulla solidarietà dei sulmonesi e non solo. Solo ieri sono arrivati 13 sacchi di pasta che permetteranno all'amica decani Gabriella Tunno, presidente dell'associazione Code Felici, di tirare avanti fino alla fine della settimana. Una vicenda che rasente il paradosso se si pensa che per reperire il cibo agli animali per provvedere alle spese sanitarie, l'atunno sta facendo i salti mortali. Fra pasta, pane e croccantini sulmonesi hanno risposto con generosità all'appello, hanno permesso ai 300 ospiti del canile di essere curati, accuditi e saziati. Quanto all'aspetto burocratico, la firma, alla fine, sui mandari di pagamento per la liquidazione delle fatture da febbraio ad aprile, la dovrà mettere il dirigente del quarto settore che rientra a Palazzo San Francesco nella giornata di lunedì. L'assessore Stefano Mariani, che sta rifornendo il canile anche a sue spese come volontario, aveva annunciato la possibilità di una firma del segretario, ma il mandato sarà completo solo lunedì, mentre la determina e sarà già pubblicata sull'albo pretorio. Gabriella Tunno si appella intanto anche al sindaco. Qui non è mai venuta e i cani sono i suoi. Questo atteggiamento è inaccettabile. Da Ovidio a Caravaggio, conto alla rovescia per l'Università Telematica San Raffaele, che avrà una sede a Sulmona. Domani saranno presentati i corsi. A Sulmona saranno attivi tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università Telematica San Raffaele di Roma, da scienze dell'amministrazione, scienze dell'attività motore e sportive triennale magistrale, scienze motorie, indirizzo calcio, moda design, scienze dell'alimentazione e gastronomia e i corsi di laurea magistrale Scienze della nutrizione umana e nutraceutica. Cresce l'attesa in città per l'inaugurazione dell'Università Telematica San Raffaele di Roma, che, come annunciato in anteprima da Onda di G, avrà una sede a Sulmona nel liceo Mazzara. Domani sarà il giorno della presentazione al Cinema Pacifico di Sulmona, dove ci sarà l'anteprima del film Caravaggio e l'anima e il sangue, su iniziativa del comune dell'Università Telematica San Raffaele di Roma e di Sky, nell'ambito dell'apertura della serie sulmonese dell'Ateneo. Partendo dai contenuti narrativi, documentaristici e artistici del lungometraggio, approda con perfetta armonia la riflessione su un'opera chiave del maestro, il Narciso, conservata al Museo Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini a Roma. Un'opera chiave che verrà illustrata dal professor Claudio Strenati dell'Università Telematica San Raffaele di Roma, prima della proiezione del film e per il suo significato imponente nella storia dell'arte. Il Narciso, che osserva se stesso, conduce infatti al mito ovidiano delle metamorfosi, uno dei grandi emblemi della storia dell'umanità legato a doppio filo a Sulmona. L'evento vedrà la partecipazione degli studenti Polo Video e del Polo Fermi di Sulmona. L'apertura a Sulmona della sede dell'Università Telematica San Raffaele di Roma è un evento molto importante per la nostra città e per il territorio, afferma il sindacone Maria Casini. Ritengo che la partecipazione degli studenti al seminario rappresenterà un importante e significativo momento di valorizzazione e capitalizzazione del binomio Caravaggio-Video in una sintesi felice di arte, storia, cultura, accademia. Sarà una giornata in cui Sulmona inaugura la presenza dell'Università Telematica San Raffaele di Roma, che sono sicura diventerà scenario di nuove opportunità per i nostri giovani. Intanto torniamo alla notizia di cronaca relativa alle indagini marsica su certificati medici falsi perché c'è un commento del manager dell'ASL, Rinaldo Tordera, ricordiamo comunque questa operazione, dieci ordini custodia cautelare emessi dal GIP del Tribunale di Avezzano sono in corso d'esecuzione alle prime ore dell'alba ad opera dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza dell'Aquila nei confronti di altri soggetti responsabili a vario titolo di frode processuale, corruzione, falsità materiale ed ideologica commessa da pubblici ufficiali in atto pubblico, frode assicurativa, truffa ai danni dello Stato e favoreggiamento. Il tutto ha portato all'emissione di certificati medici falsi. Il manager Tordera si congratula con la Guardia di Finanza. Rivolgo un plauso alla Guardia di Finanza per l'attività di indagine che sta portando avanti in merito ai gravissimi fatti emersi in queste ore dalle indagini che purtroppo coinvolgono anche dipendenti dell'azienda e quanto afferma il manager dell'ASL Tordera in merito appunto a quest'inchiesta sui certificati medici falsi. Dei primi discontri dell'indagine sono emersi fatti inqualificabili ed estremamente gravi, aggiunge Tordera, ed auspico che l'inchiesta consenta di individuare eventuali responsabilità di operatori che svolgono compiti importanti all'interno delle istituzioni sanitarie e che dovrebbero sempre dare prova ed esempio di correttezza e credibilità. Siamo al fianco delle fiamme gialle, conclude per dare loro, se necessario, la massima collaborazione nel proseguimento delle indagini. Lasciamo dunque questa inchiesta in corso nella Marsica, adesso per la sanità. Parliamo di un'iniziativa che ci sarà nella giornata di domani a Sulmona, a partire dalle 9 nel parcheggio del CUP dell'ospedale di Sulmona. I responsabili dei pensionati di CGL Cislewil attrezzeranno un gazebo nel quale sarà effettuata una raccolta di firme per la petizione che i sindacati regionali stanno effettuando per chiedere alla Regione Abruzzo alcuni punti importanti per i cittadini rispetto alla sanità pubblica ed in particolare l'eliminazione del super ticket, la riduzione delle liste d'attesa, la programmazione delle strutture territoriali e della medicina di genere. Le organizzazioni sindacali invitano i cittadini ad apporre la propria firma per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Questa iniziativa che ci sarà, ripetiamo, domani con la raccolta firme dalle 9 nel parcheggio del CUP dell'ospedale di Sulmona. Lasciamo la sanità, passiamo ad altro. Si va verso una class action per la strada provinciale marsicana. La protesta diventa virale. Sentiamo nel servizio di Andrea D'Aurelio. Una class action o meglio ancora un'azione collettiva verso chi sta creando danni economici per la situazione della strada provinciale 83 marsicana. Il patrocinio gratuito arriverebbe dal sindaco di Civitella Alfedena Giancarlo Massimi e quanto fanno sapere dal Comitato per le strade aperte e sicure che annuncia un summit proprio con il primo cittadino residenti e esercenti dell'Alto Sangro che hanno già avviato la protesta sui social con un video che ha superato le 18.000 visualizzazioni. Nonostante le promesse e gli annunci, la marsicana resta chiusa con ovvie conseguenze per l'economia di quella zona. Dopo numerosi e continuità gli eservizi, da ultimo siamo penalizzati nella mobilità quotidiana, fanno notare ancora gli esercenti nel video che sta facendo il giro dei sociali. Sono preoccupato per il fatto che non si fermano più motociclisti stranieri che ogni sera a maggio si fermavano e si prendevano la stanza e mangiavano. Ma non solo, ma i soldi che sono stati spesi per i cartelli 27.000 euro sarebbero serviti giusti per riattappare le buche più pericolose. La cosa che è ancora più grave è anche quella della sicurezza. Noi, stando in montagna, non abbiamo ospedali, quindi siamo tagliati fuori da tutti i servizi sanitari. Ci ritroviamo ad avere un'emergenza urgenza che non può essere tale. Già i problemi in Italia sono tanti e già tanti ragazzi come me non rimangono. Oltre a questi problemi ci troviamo ad affrontare anche altri problemi come quello della viabilità con turisti che vengono, i clienti del mio albergo, che vengono all'inverno spaccano una gomma al cerchio con i bambini in macchina. È una disavventura. Quel cliente io almeno penso di averlo perso. I nostri sindaci è da novembre che stanno sollecitando la regione, la provincia per una soluzione definitiva e non divieti a motociclette e non aspettare soprattutto degli incidenti. Ci hanno imposto un divieto alla circolazione di moto, biciclette e un obbligo di 30 km orari agli altri autoveicoli. La nostra strada è dissestata e i nostri politici invece ci dicono che noi, che l'Italia può vivere di turismo, ma come facciamo a vivere di turismo se sono le istituzioni stesse a boicottarci? Adesso arriva una notizia sindacale perché i lavoratori della cooperativa sociale Leonardo che svolge servizi socioeducativi assistenziali nell'ambito di competenza della comunità montana serentina sono senza stipendio da quattro mesi. È stato esperito nei giorni scorsi, si legge in una nota in sede prefettizia, il tentativo di conciliazione a seguito della proclamazione dello stato di agitazione dei lavoratori della cooperativa sociale Leonardo, un tentativo che si è concluso con esito negativo. Nel corso della riunione, prosegue la nota, a cui la Regione ha deciso di non partecipare dimostrando scarsa sensibilità nei confronti di chi garantisce servizi pubblici essenziali, a ferma la CGL, è emerso che la problematica complessiva è riconducibile ai mancati trasferimenti dei fondi regionali e nazionali per le politiche sociali finalizzati al sostegno delle attività socioassistenziali, tant'è che la stessa comunità montana serentina ha dichiarato che a causa dei mancati trasferimenti delle risorse da parte della Regione Abruzzo, la stessa comunità montana viene a trovarsi nell'oggettiva difficoltà di adempiere al pagamento dei servizi svolti dalla cooperativa sociale Leonardo, che vanterebbe un credito a detta della stessa cooperativa di oltre 500 mila euro. Tale situazione, prosegue la CGL, si ripercuote a discapito delle circa 30 lavoratrici e lavoratori della cooperativa sociale che non percepiscono lo stipendio dal mese di gennaio scorso, gennaio 2018. Lasciamo questa situazione, adesso cambiamo decisamente argomento. Successo dell'orchestra della Scuola Media Serafini di Sulmona, seconda classificata ad un concorso musicale svolto sieri a bordo della Cruis Barcellona per quel che è stato un viaggio positivo sotto tutti i punti di vista. Il servizio. Un'esperienza unica per la Scuola Media Serafini di Sulmona, protagonista in assoluto a bordo della nave Cruis Barcellona. Oltre al fascino dell'itinerario, la Scuola con la sua orchestra ha partecipato con successo, proprio durante il viaggio, al concorso Cori Orchestre Musicali on board, conquistando il secondo posto. I componenti dell'orchestra, formata da 42 piccoli musicisti della seconda e terza media, hanno dato il massimo per ottenere questo risultato, tanto da meritarsi i consensi dell'attenta e competente commissione per il repertorio scelto. Il concorso riservato alle orchestre scolastiche sulla Cruis Barcellona della Grimaldi Lainz ed organizzato da Sinfoni e dall'Associazione Culturale Castellarte, ha messo in evidenza il lavoro dei ragazzi e dei docenti della scuola, Massimo Pacella, Andrea Silvestri, Andrea Lapietra, Roberto De Vincenti, Santonio Gentile per il coro e Maria Co. Ognuno rivolge un particolare ringraziamento alla dirigente scolastica Elvira Tonti, che ha permesso tutto ciò, a beneficio delle attività musicali della scuola, in grado di produrre questi risultati soddisfacenti. Si è conclusa ieri sera con la proiezione dell'ultimo film della rassegna, Fermi al Cinema, l'intensa e attiva collaborazione tra il Liceo Fermi e l'Associazione Culturale sul Monacinema, un successo di pubblico imprevisto, si legge in una nota, nelle cinque serate, momenti di condivisione umana, di incontro, di crescita per adulti, ragazzi, uomini e donne, che hanno assistito con partecipazione emotiva ed interesse, ma soprattutto un momento di rinascita della nostra città, che è tornata a pulsare di vita e a risuonare di voci. La settimana scorsa si è concluso anche il progetto Cine Scuola, direzione Sud, sempre in collaborazione con Sul Monacinema, con la proiezione del film Sette minuti di Michele Placido. I nostri ragazzi, prosegue la nota, nel corso dell'anno hanno visto due film e sei cortometraggi presso la multisala Ijoland di Corfinio, altro partner attivo del progetto. Continuiamo a credere nella potenza comunicativa del cinema, conclude la nota, nella sua capacità di esprimere significati attraverso la commistione di linguaggi e la sovrapposizione di messaggi nelle suggestioni che solo il grande schermo sa evocare, la giusta confluenza di verità arte e vita. Secondo appuntamento oggi alle 18.45 nella cattedrale di San Panfilo a Sulmona per la rassegna maggio organistico organizzata dalla camerata musicale sulmonese. Organista ospite sarà il molisano Antonio Colasurdo che seguirà un programma che spazia dalla musica barocca fino a composizioni contemporanee. La camerata musicale sulmonese ricorda che il prossimo e conclusivo appuntamento sarà con il duo Alessio Di Benedetto, Tromba e Maurizio Ricciotti all'organo che è stato anticipato a mercoledì 30 maggio, sempre con inizio alle 18.45. Adesso per lo sport ci occupiamo di schermo perché la gimnasium di Sulmona si è messa in evidenza ai recenti campionati italiani che si sono svolti a Riccione e l'atleta Manuela Spica a dicembre volerà in Qatar ad un raduno internazionale. Il servizio. Nuove soddisfazioni nella scherma grazie agli atleti della società Gimnasium che la scorsa settimana a Riccione hanno ottenuto risultati rilevanti nella sciabola alle finali dei campionati italiani di categoria. Buone prove tra le ragazze di Marta Bonaventura, Ludovica Bucci Ferri, Valentina Spinosa e Anna Chiara Galterio, mentre tra i ragazzi di Carlo Alberto Di Cristofaro, Giuseppe Marinucci e Leonardo Di Meo. Da evidenziare inoltre le prestazioni di Filippo Calò e Nicolas Giardini, categoria 2006, che sono andati ad un passo dalle fasi finali, e di Mario Prignano ed Andrei Marrubbio, categoria allievi, che con prove superlative hanno sfiorato la finale ad otto. Questi risultati sono il frutto del lavoro svolto nella palestra sul Monese in via Stazione Introdacqua, sede del Centro Federale Regionale di Sciabola, sotto la guida del tecnico Linda Moca e del preparatore atletico Giuseppe Bernardi. Ad allenarsi insieme agli altri con passione c'è la promettente allieva Manuela Spica, vincitrice nel marzo scorso a San Severo del trofeo Kinder più Sport per il quarto anno consecutivo. Ormai ti sei abituata a vincere questo trofeo, questa competizione? Eh sì, la prima gara nazionale ha vinta Carlotta Fusetti, che è prima in carica, e quindi io volevo soprattutto vincere il quarto anno di fila, soprattutto, per vincere i quattro anni. Alla San Severo ce l'ho messa tutta e ce l'ho fatta la vera prima. Grazie a questo risultato Manuela Spica è stata convocata dalla Federazione Italiana Scherma per il raduno internazionale in programma a dicembre nella città di Doha, capitale dello Stato del Qatar. A questo appuntamento parteciperanno solo sei allievi nazionali a dimostrazione dell'ottimo livello che sta raggiungendo la giovane sul Monese. Adesso qui hai un bel biglietto di viaggio, andrai a Doha, sei soddisfatta? Sì, mi hanno detto che mi devo allenare tutta l'estate, perché ho detto che là ci tritano, e quindi mi do di allenarmi. Per la Spica inoltre si aprono le porte della nazionale, in quanto è riuscita a staccare il pass per il raduno degli azzurrini in estate a Cascia, che vedrà la partecipazione anche dell'altro atleta della gimnasium, Andrei Maruglio. Molto contento e orgoglioso di essere arrivato a questo risultato, insomma. In terzo poveriggio culturale oggi a Sulmona si comincerà alle 15.30 nell'Aula Magna del Liceo Artistico Mazzara con la premiazione del secondo concorso di storia organizzato dall'Associazione Culturale Panfilo Serafini. Si partirà, come dicevamo, alle 15.30 con i saluti istituzionali, poi ci saranno le relazioni, la giornata, il pomeriggio sarà caratterizzato da intermezzi espressivi e musicali e poi si procederà alla premiazione dei vincitori del secondo concorso di storia. Alle 18 all'hotel-ristorante Meeting di Sulmona sarà presentato il libro Vita, opere, buona sorte di Domenico Santa Croce. Dunque una pubblicazione dedicata proprio al titolare dell'hotel Santa Croce Meeting. Appuntamento alle 18, come dicevamo, ci saranno gli interventi dell'editore Marco Solfanelli, dell'autore Antonio De Panfilis, dello scrittore Giovanni D'Alessandro, dello storico Goffredo Palmerini, dello scrittore Nicola Gardini e del protagonista Domenico Santa Croce. E adesso arrivano alcuni aggiornamenti, funerali in forma privata per Fausto Filippone, gli unici fiori quelli degli amici di sempre, fiori semplici e bianchi, non vistosi. Le sequie si sono svolte a Pescara alla Chiesa dello Spirito Santo. Dio, ha detto nell'Omelia il parroco Don Giorgio Campilli, ci raggiunge nella profondità del baratro della nostra esistenza per riprenderci e certamente potrà farlo anche con il nostro fratello Fausto. Filippone, ricordiamo Domenica, ha ucciso prima la moglie, poi la figlia di dieci anni e successivamente si è suicidato al termine del rito funebre, Don Giorgio ha abbracciato e accarezzato la sorella di Fausto, Antonella, prendendola per le spalle quasi a volerla sostenere del suo dolore. Un abbraccio più lungo, quello per il padre di Fausto, Antonio, già provato nei mesi scorsi dalla perdita della moglie dopo una lunga malattia, lacrime asciugate quasi con pudore in chiesa da parte della sorella di Fausto e del suo papà, rimasto seduto a ricevere le frasi sussurrate di cordoglio di parenti e amici. Altro aggiornamento di cronaca, botte alla madre per i soldi della droga, quest'episodio si è verificato nel Teramano, maltrattamenti in famiglia continuati e distorsione sono le contestazioni di reato, mosse dalla procura di Teramo nei confronti di Francesco Martini, venticinquenne di Alba Adriatica, arrestato dai carabinieri della locale stazione su ordine del GIP Mauro Pacifico. Secondo quanto ricostruito nelle indagini, il giovane, già conosciuto ai militari per piccoli reati contro il patrimonio, picchiava in più occasioni la madre colpendola con calci e pugni per futili motivi, sempre perché la donna gli rifiutava il denaro per comprare la droga. Minacciata di essere sgozzate dopo l'incendio dell'appartamento, la madre era stata costretta a consegnargli sempre più frequentemente piccole somme di denaro, fino a quando, esasperata, ha deciso di denunciarlo ai carabinieri. Da qui il rapporto alla magistratura che ne ha chiesto ed ottenuto l'arresto. Non ci sono altri aggiornamenti prima di concludere questa edizione del giorno del nostro telegiornale. Come al solito c'è la programmazione cinematografica alla multisala Igioland di Corfinio. Sono in programmazione Dogmen, film vietato ai minori di 14 anni con orari 18 e 21 e 10. Solo e Star Wars Story alle 18 e 21 e 10. Quanto basta? Filma rassegna del giovedì con orari 18 e 21 al Pacifico di Sulmona. E' in programmazione il film Kedi, la città dei gatti. Si tratta del documentario sui gatti di Istanbul con orari di proiezione 17 e 30 e 19. E' tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale. Grazie della cortesa attenzione. Prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20. Ci salutiamo con il meteo. Buona giornata. Sulla nostra regione condizioni di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, mentre i banchi di nebbia interesseranno le valli interne dell'Aquilano e della Marsica. Un nuovo graduale aumento della nuvolosità è previsto a ridosso dei rilievi e sulle zone interne con possibili rovesci localmente a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane collinari che si affacciano sul versante adriatico, con occasionali sconfinamenti verso le aree costiere, ma rispetto ai giorni scorsi l'instabilità risulterà meno accentuata e i fenomeni meno frequenti. Temperature generalmente stazionari o in lieve aumento nei valori massimi, venti deboli dei quadranti settentrionali, specie sulle zone collinarie e costiere occidentali altrove, mare generalmente poco mosso o localmente mosso.